partiti in vantaggio si porta Max Forever nei confronti di Mujahid Bon quindi per linee interne Zaraieva segue all'esterno Piccinet ancora Nalini Malani con in coda Cavalli ora all'imbocco della curva di fondo con Max Forever sempre in vantaggio tallonato all'esterno da Mujahid Bon in terza posizione per linee interne rimane Zaraieva con all'esterno Piccinet quindi segue Nalini Malani con in coda Lungo la curva non avvengono cambiamenti e Max Forever entra al comando in retta d'arrivo spostandosi al centropista ma avendo sempre all'esterno Mujahid Bon all'interno dei due si profila Zaraieva mentre a largo cerca di avanzare Piccinet con Nischi e Nalini Malani più indietro Last Dance siamo a 400 dal palo con Max Forever attaccata a fondo da Max Bon a largo dei due si profila Piccinet che di slancio sta passando Piccinet ha preso vantaggio a 200 dal palo nei confronti di Zaraieva che risale all'interno siamo nel tratto finale Piccinet attaccata a fondo da Zaraieva Zaraieva di slancio nel finale passa su Piccinet al terzo posto Mujahid Bon con vicino all'interno Max Forever Rivediamo le immagini di questa seconda corsa di Agnano con in evidenza il numero 6 di Zaraieva montato da Basile allenato da Mauro Grassi al secondo posto il 3 di Piccinet più vicino invece per il terzo posto il Mujahid Bon numero 2 Max Forever numero 1 Grazie a tutti